Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Fermare Sanco, sono in condizioni pietose Sembrava che mi fosse ripreso, ricordate no? Il video di venerdì e sabato che dicevo che non stavo molto bene Poi sembrava che mi stessi riprendendo e poi sono ricrollato Ricrollato, capito? Ricrollato per cose di meme Quindi ieri non ho fatto video, cioè domenica per voi non ho fatto video Perché in realtà non ho avuto tempo, cioè praticamente la mattina avevo qualche ora libera Ma è stato il momento in cui stavo male Poi mi sono ripreso e da pranzo a sera praticamente non ero a casa Quindi poi non ho avuto modo di fare video E anzi, mi ero... ah no, in effetti no, non potevo farlo la sera Però pensavo che avrei fatto un video di sera Cioè questo video pensavo l'avrei fatto ieri sera, cioè domenica sera Perché comunque avevo... Non so più parlare, non sto più connettendo cerebralmente Perché niente, avevo qualche ora quando sono tornato Ma stavo di nuovo male, il fatto sta che adesso sto ancora male Quindi niente, piccolo riassunto, sto male, questo non c'è molto altro da dire Comunque cercherò di recuperare e fare un video in più o oggi o nei prossimi giorni Faccio due video in un giorno, almeno recupero quello che ho perso domenica Perché poi vi sono anche calcolato il giorno in cui dovrei arrivare a mille video Quindi se faccio un video in meno puoi sbarerlo tutto Allora, comunque non ce ne frega un cazzo, non vogliamo parlare di questo Bensì, della torretiva Belle Legacy Edition di Bennato Ebbene sì, voglio un attimino dare onore a Edoardo Bennato Dal momento che l'unico disco che finora abbiamo visto suo È una merda Cioè è nelle ultime posizioni di questa serie di recensioni Perché oggettivamente fa cacare Molto cacare Questo invece è un po' più carino Secondo me non è un'opera d'arte mobile Ma è carino, c'ha tanti contenuti C'ha tante cosette curate A differenza dell'altro Quindi insomma, almeno un voto decente Si spera che riesca a prenderlo Andiamola a vedere Allora, questa come avete già visto è la copertina Secondo me è molto molto bella Forse la copertina più bella di un disco di Edoardo Bennato Perché spesso Edoardo Bennato vale le copertine molto semplici In questo caso è piena di elementi Ma funziona secondo me benissimo Scusate, ogni tanto ci avrò Dei piccoli attacchi di tosse Comunque Cioè, questa è bellissima Perché la guardi da lontano ed è Simbolicissima È ben riconoscibile E poi se la guardi da vicino Riesce a notare un livello di dettaglio Molto ganso Guardate qua A scendere si va sempre più indietro nel tempo Se non sbaglio Molto figa secondo me Veramente molto molto figa Bella Bellissima E poi dietro c'è la tracklist Molto semplice Non ci sono disegni Non ci sono cazzi C'ha soltanto delle liste Questa è la costola Di qua non c'è niente Andiamolo ad aprire Allora, come vedete È un vero e proprio cofanetto Cioè, questa parte esterna In realtà non è il cd Non è Colui che tiene l'album Ma sono questi Cosi di carta Che tengono I singoli album Molto particolari No, questo è un libretto Aspetta, non capisco un cazzo Sì, questo è un libretto E sotto c'è con l'altro Tiriamo fuori tutti i contenuti Almeno ci torniamo dalle palle Questa custodia Ecco qua Allora Cosa contiene Questa Legacy Edition Contiene Il disco ovviamente originale Della Torre di Babele Guardate, tra l'altro Molto ganso Tra l'altro è fatto tipo di cartone Cartone molto Molto fine, vedete Ricorda molto Come venivano fatti gli album Ai suoi tempi Io ho un paio di album Di Eduardo Bennato Ho anche tra l'altro Questo originale Ve l'ho già fatto vedere Se non sbaglio Eccolo qua Guardate in che belle condizioni È messo Ragazzi, c'ha i suoi anni Questo album Poi tutto di cartoncino Venivano fatti in questo modo I cd una volta Questo va a riprendere Un po' quello stile Solo che questo Non c'ha manco il libretto È proprio un Una custodia Dentro c'è infilato il cd Questo invece si apre Ti fa vedere Anche questo in realtà Non c'è il libretto Però ti fa vedere Un po' un'immagine Molto bellina Tra l'altro Sembra un mix Fra disegno e foto Le facce sono foto Non credo siano disegnate Sono proprio fotografiche Alcune sono disegnate Credo Bellina però sta foto Non so di preciso Cosa rappresenti Però figo Forse è tutta la gente Che ci ha lavorato Non lo so E andiamo a vedere Come ha fatto il cd Allora Ve li metto accanto Per farvi vedere la differenza Questo è il disco vecchio Che È bruttino Più che altro È molto semplice Ci sono veramente Pochissimi elementi Cioè anzi C'è soltanto L'autore E il titolo E i dettagli Informativi 2004 Tra l'altro Non sono nato io E poi c'è questa striscia Grigia E invece Il disco nuovo Della legacy edition È stato realizzato Un po' più con cura Cioè in realtà Niente di che Hanno semplicemente Preso la copertina Però secondo me Funziona È carino È tipo carta d'apparati In questo modo Tra l'altro Mi sembra che le scritte Riflettono in modo diverso Rispetto al resto Sono leggermente diverse Forse solo perché sono bianche Boh Razzismo È comunque carina Tra l'altro hanno messo Questo fonto Un po' in trasparenza Non so come mai È carina Ci sta Ecco Mi hanno chiamato A me se registravo Il video Mi toccherà Fa un montaggio Del cazzo Mi toccherà Prendere tutte le parti Rimetterle insieme Due coglioni Comunque Questo è Appunto il disco Molto carino Vabbè Non stiamo a perdere Tre ore Su un cd Di merda Passiamo poi Al cd Molto bellino Molto bellino Molto carino Ci sta A me piace molto E riprende questo 45 Che c'è qua sulla copertina Tra l'altro Anche qua sulla copertina In realtà ci sono Molti dettagli Qui c'è la copertina Modellatore Modellatore di Babele Di Bennato Tutte le cose Con lui bello Fiero Nonna In primo piano È nato 45 Non l'ho specificato È speciale 45 Anni di carriera E Sono solo un cantautore Ma padre Andiamo a vedere Cosa c'è dentro Allora Come vedete Ci sono In realtà Cose informative Non ci sono i testi Ci sono C'è un racconto Della Vita Della biografia Diciamo Di Di Bennato Di come è arrivato A fare l'autore di Babele A fare tutti i I peni Tutte le cose Riprendiamoci la musica Gli autoriduttori Che cazzo vuol dire Non lo so Comunque non l'ho letto tutto L'ho letto un pezzettino Da Zeppini Che cazzo c'entra Vabbè È carino Ti racconta un po' la storia Ti racconta Edoardo Mennato L'album successivo Io che non sono l'imperatore Sono l'autore di Babele Ah l'ha disegnata lui La copertina L'umanità Dedita alla guerra Un immaginario Scatto fotografico Della famiglia umana E la sua Innata propensione bellica Si parte dall'uomo Di Neandertal In basso a sinistra E poi man mano Si si sposta Da sinistra a destra E dal basso all'alto Le armi diventeranno Diventano sempre più Sofisticate È un'immagine Che rappresenta Il concetto biblico Dell'autore di Babele Con gli uomini Determinate a sfidare La natura E Dio stesso Che alla fine Li pulì Li punì Li pulì Per questa loro Presunzione Tutti i brani Che si discose Con un filo conduttore Ben preciso E riflettono La mia posizione In contraposizione Ad ogni forma di conflitto Ho intuito Che modo migliore Per descrivere I mali della società Ero Vabbè Stampa Era quello Di ridicolizzarli Ed è per questo Che le varie canzoni Trattano l'odio Tra i popoli Che non riescono A comunicare tra loro E quindi sentono L'esigenza di confrontarsi Con la forza Molto Molto ganso Mio padre Veramente Fortissimo Edoardo Bennato Ricordo che questo album È del 76 Cioè Nel senso Mettiamo un attimino A Diciamo Diamogli Il suo Il suo contesto Eccolo Comunque niente Molto molto bello Bellissima Infatti la copertina Dicevo Che è molto ganza È molto molto bella Non sapevo L'avesse disegnata lui Non mi ricordavo Che lui fosse Un designer Designer Che parla delle sue minchie Minchia Un bel raccontone Bello lungo E se è interessante Se uno Conosce Bennato È curioso di sapere La sua storia E Andiamo avanti Una bella foto In un concerto Ozzolid Io La versione live Di cantautore Contenuta nella torre Di rovelle Fu registrata In un'esibizione Eh infatti Vedi Il cantautore Che è una delle canzoni Di questo album Infatti Ehm Ho sempre detto Ma perché sembra Fatta in concerto Cioè Non sembra registrata Per bene E non so perché Però Quanto fare L'ha presa da Abbiamo provato A inciderla In studio Ma musicamente Non riuscivamo A dargli quel vigore Che un pezzo del genere Necessitava In qualche modo La si può ascoltare Seppure in forma ridotta Nel reprise del brano Alla fine del disco Ah Alla fine del disco No qua non c'è la tracklist Scherzavo Dopo Ricontrolliamo Voglio vedere se effettivamente C'è Cantatore Ma forse Cantatore Non è giusto La versione Non mi ricordavo Racconto di Sorgio Bennato Ah Questo mi sa che è Il fratello di Bennato Il disco L'autore di Vapere Aveva avuto abbastanza successo A rimanere molto tempo A caselle Fermi a mettere le pib Addirittura No no Palermo 11377 Boh Mio babbo ci aveva Nove anni In questa data Incredibile Sempre raccontare Pesaro Ti racconta un po' Di live Bellino anche il coso Fatto a blocco note Altri frame Di concerti Ecco qui Questo è lo screen Mi sa che c'è In diversi C'è lo screen La foto Conclusione Meglio insomma Delle precedenti esperienze A Torri Pavelle Pumavendosi sulla falsariga Dei precedenti album Si presenta forse musicalmente Più valida Probabilmente per la presenza Di numerosi ottimi collaboratori Fra i quali Fa spicco Tonio Esposito Più forte Il perquestionista Partenofero Partenofero Non si dice Partenofero Legatissimo a Edoardo Il discorso urbanistico Del cantatore napoletano Trova la sua provvisoria Conclusione nella torre Intesa come vero e proprio Rigetto dell'uomo Per la natura Nell'album finalmente Compresa cantautore La canzone più richiesta Negli affollatissimi Concerti di Benato Registrata appunto Dal vivo C.P. Core Prime E qua Tracklist Vedi Cantatore ma non è giusto Questo penso Che sia la versione Registrata Solo che vedete La versione normale Dura 5 minuti e mezzo Questa dura 1 minuto e 51 E non mi ricordo Di preciso Che Cosa rappresenta Che cos'è Non dovrò riascoltare Perché proprio Non mi ricordo Che cos'è Se è un pezzetto Boh E poi c'è Ci sono varie live Tra l'altro Cantatore C'è due volte Uno in Roma E uno al palazzetto Dello sport Anche ma chi è Sono un po' ripetute Queste canzoni Forse ha preso Il meglio Di tutti i concerti Però vabbè Beh Una bella foto Di lui Che Molto concentrato E niente Questo era tutto Ciò che contiene Tra l'altro Questo è un bel libretto Grosso Vorrei evidenziare Bello Quindi direi Che Madonna Che capelli di merda È il momento Di passare Alle valutazioni Allora Li mettiamo Intanto a posto Oggi riguardo Al volo Cosa contiene Questo coso E Diciamo che A livello di contenuti È Abbastanza pieno Perché c'è questo libretto Che ti racconta Tutta la storia E comunque È bello È un libro È un mini libro Praticamente Da sfogliarsi Però partiamo Come sempre Dal concept E dal design Allora Ripeto La copertina Secondo me È molto molto bella È molto molto bella A livello però Di Elementi Che ci sono dentro Ora consideriamo Che noi abbiamo La legacy edition Quindi devo valutare Tutto quello Che c'è qui dentro Non soltanto L'album Originale Altrimenti valuterei Questo E si farebbe prima Ma Diciamo che È carino È molto carino Non ci sono Cose assurde Però è carino Anche come è stato realizzato Per esempio L'album Che contiene Il cd live Mi piace Con quel 45 Anche il cd Che c'è il 45 sopra Come è stata applicata L'immagine sul cd Anche della torre di Vabele Tutte le Diciamo che A livello di copertine Funziona molto E mi stanno richiamando E allora Non volete registri sto video Ditemelo prima No? E non lo faccio Stavo dicendo Quindi A livello di copertine E di cose Singole Tra virgolette È molto carino È molto molto carino Però se vai a vedere Alla fine La sostanza Non è che c'è chissà che Cioè Carino il libretto All'interno del libretto Per esempio Quando c'è la forma Del blocco nota C'è qualche foto Dei concerti Però Non è Incredibile Sicuramente Almeno il set Se lo merita Comunque già Per le copertine varie Come è stato realizzato Cioè Non ti viene mai Da dire Però questo Insomma È tutto carino Non c'è Però un grande concept Non c'è un concept Cioè c'è il concept Della copertina Basta Poi per il resto È tutto semplicemente curato Però non c'è Un'idea Particolare Se non Nella copertina Appunto Quindi dai Gli do un set E siamo tutti tranquilli Tutti a casa i bambini Tutti a casa i bambini Invece A livello di contenuti Allora Gli darei un voto Buono Perché comunque Appunto Ripeto C'è un libro Praticamente Su tutta la sua vita Su tutto ciò Che c'è stato Prima di questo album E come È anche Riguardo all'album stesso E È molto carino Non c'è Non ci sono i testi Questo c'è da dirlo E In più Essendo Tanta roba scritta Così proprio Al libro È carino Però diciamo Che io Per informarmi Sono cose del genere Magari Preferisco Andrò a cercare Su google Piuttosto che Mettermi lì A sfogliare Con sto libretto Che poi magari Lo sciupo E Poi soprattutto Quando è che C'è voglia Di informarti Cioè Mentre A me piace Quando nei libretti Ci sono tante cose Scritte in più Che non sono testi Quando magari Ti raccontano L'album Ma ti raccontano L'album Nel senso che Tipo Traccia uno E te lo racconta In un certo modo Come per esempio Per l'idra teatri Mille delitti È molto carino Secondo me Perché mentre Ti stai ascoltando Una canzone O all'inizio Alla fine della canzone Ti puoi leggere La storia O anche a fine album Staccato Dall'ascolto in sé Ti puoi leggere Diciamo La storia raccontata Di quella canzone Che racconta La storia In modo alternativo In un altro punto di vista E in prosa E quindi Te riesce a dare Un'interpretazione Più precisa A quella canzone Quindi Riascoltando l'album Dopo aver letto Il libretto Hai un qualcosa in più Stessa cosa A xanoverso Di rancore È un po' diverso È un po' al contrario Nel senso che Più ascolti l'album Più a interpretazione Della cosa Della cosa che ci sono Nel libretto Perché sono tutti disegni Che sono un po' citazioni Al cd E ti danno Diciamo Una cosa visiva Di quella che c'è nel cd In questo caso È abbastanza scollegato Cioè È sempre collegato Perché ovviamente Ti racconta dell'artista E dell'album Però È la storia Di come è stato fatto Alla fine Non è che ti caratterizza Molto Come lo vai a ascoltare Quindi carino Ma niente di incredibile Però comunque È un bel cofanetto Questo sicuramente Diciamo che gli darei Forse un Sono indeciso Fra dargli il sette e mezzo Che però mi sembra Un po' bassino Perché comunque C'è tanta roba Poi Ricordiamo A livello di contenuti Ci sono due cd E questo E questo Questo cufanetto Costa quanto Un cd normale Sono due cd C'è da dire Che quello live Non è proprio Per ascoltarselo Così a caso Perché ci sono Canzoni che si ripetono È più per sentire Cosa ha fatto il live Quindi è un po' Però comunque C'è tanta roba dentro Diciamo che gli do un 8 Dai Gli do un 8 A livello di contenuti Quindi si va A una media Del sette e mezzo Design Concept design Aveva sette Contenuti 8 Sette e mezzo E si va a letto Quinquinquamblionglombliinl Direi che per questo video È abbastanza Io Tra l'altro Dovrò rimontare Ogni ben di dio Perché Mi hanno chiamato 30 volte Mentre registravo Quindi dovrò Prendere tutti i video E rimetterli insieme E niente Vediamo Uno di questi giorni Uscirà un video in più Non so quando Potrei pubblicarli Uno in più mercoledì Se registro un video in più Con Polini Visto che mercoledì Esce Keep Talking Insieme al Polini Se io faccio magari Entro mercoledì Un video Non su Keep Talking Ma sempre col Polini Può essere carino Un doppio video così Di mercoledì Quindi vediamo Magari la sera Video serale Tipo alle 9 Ora ci penso Semmai se mi viene un'idea Faccio un video a caso Da solo Non sono costretto Vediamo Quindi niente Per questo video è tutto Noi ci vediamo Domani Si spera Con un altro video Se non sono morto Domani che cosa c'è Martedì Martedì Ah no Sì domani Tanto esce Tetris Quindi porta una sega Fino a mercoledì Sono tranquillo E niente Ciò che Grob Limits Noi ci vediamo Noi ci vediamo